Grazie a tutti. La prima citazione è quella di un poeta, i poeti naturalmente l'arte prefigura la scienza, l'anticipa, l'arte preoccupa e la scienza tranquillizza si dice, ma questo poeta Winston Hugh Oden ebbe a dire che migliaia hanno vissuto senza amore, non uno senza acqua. E la citazione invece è divertente, suggerita da una bravissima storica della scienza, Corinna Guerra, di Bertrand Russell del 1934, nella sua storia della filosofia occidentale contestava in radice il materialismo storico, giusto o sbagliato che sia. Ma diceva che sostanzialmente se i fatti sono scelti con cura la storia può essere spiegata in molti modi e lui suggeriva questa interpretazione delle origini della rivoluzione industriale. Diceva che l'industrialismo, la rivoluzione industriale è dovuta alla scienza moderna, la scienza moderna è dovuta a Galileo, la faccio breve naturalmente. Galileo è dovuto a Copernico, Copernico è dovuto al rinascimento, il rinascimento è dovuto alla caduta di Costantinopoli, la caduta di Costantinopoli è dovuta all'invasione dei turchi. L'invasione dei turchi era determinata da una grande siccità che aveva occupato, nel periodo rilevante, l'Asia centrale. E quindi, senza solennità, ma sostanzialmente diceva che nella ricerca di fattori causativi nella storia, al centro di questa, la causa fondamentale è l'idrografia, cioè l'acqua come motore della storia. Questa immagine che vi mostro ci porta a Venezia, che è la città in cui sono nato e cresciuto. Questo è Palazzo Cavalli Franchetti, la sede dell'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti, che è un'antica accademia napoleonica di fondazione. È in qualche modo rilevante il tema dell'acqua, del governo dell'acqua, perché in qualche maniera si vorrebbe che Venezia fosse l'epitome dell'episodio centrale della modernità, come diceva un grande venezianista francese, André Chastel. Ma le citazioni sono moltissime, potremmo cominciare da Shakespeare, che diceva che era la città al centro del mondo, o da Brodelli, che diceva la capitale culturale del mondo, ma ce ne sono molti altri, naturalmente. Questa foto è particolarmente evocativa dei temi che ci riguardano, perché, se osservate bene, la foto è capovolta. Cioè la foto è stata girata a fotografo, che trovo che sia particolarmente divertente, perché è stata presa durante il lockdown. Ed è, in questo caso, la parte che sta sopra è l'acqua riflessa, il Canagrande era perfettamente piatto, non c'era nulla. E la fragilità esposta a quel periodo, quella sospensione che è stata generata dal periodo del lockdown, in qualche maniera ci ha fatto riflettere, perché il suggerimento che nasce da questo è che la fragilità esposta dalla pandemia, e dai fenomeni che avevo richiesto in passato il macinare dei decenni, se pensate che la peste nera nel 600 per propagarsi dall'Asia, dove era evolutivamente generata, e per trasferirsi, diciamo, a tutto il mondo conosciuto allora, impiego a 20 o 30 anni a propagarsi. È bastato un giorno, un volo da Wuhan a Toronto, perché la pandemia diventasse globale. E la rapidità, quindi, è la parola chiave su cui vorrei farvi riflettere. E la seconda cosa che riguarda ancora la rapidità è la rapidità con cui la natura riprende il suo. Era una discussione che facevamo stamattina con Roberto Bassi, durante la riunione della Commissione per il convegno dell'ambiente. Ma in realtà, io posso dire, sono andato, nel periodo del lockdown, sono andato a Palazzo Franchetti, perché dovevo vedere che non fosse crollato tutto, perché non c'era proprio niente, come vedete su questo. Ho visto con i miei occhi, nel canale dell'Orfano, quello che separa Palazzo Franchetti da Palazzo Barbaro, quello che è un'antica storia di, era il salotto più importante d'Europa, al tempo di Isabella Gardner-Stewart, in cui Harry James e in cui Sargent vivevano fisicamente, il canale dell'Orso e il canale che li separa. Ho visto con i miei occhi un polipo nel canale dell'Orfano. Ora, come voi forse sapete, io sono nato e cresciuto a Venezia, quindi ne parlo con tenerezza, ma non ci sono fognature. E il polipo è infinitamente, insomma, è molto sensibile naturalmente alla pulizia dell'acqua. Sono bastati due mesi lockdown perché il polipo tornasse nel canale dell'Orfano. E allo stesso modo, se voi osservate le casse di colmata della terza zona industriale, l'offesa ultima alla natura perpetrata dai veneziani di allora, era il materiale di scavo dei canali di petroli, primi anni 60, e venne riempita il materiale di scavo in queste aree che vennero abbandonate poi per i mutati scenari. Bene, in quel caso, dopo 15 anni, era già santuario della vifauna residente. Quindi, la parola chiave che volevo che restasse con voi è la rapidità, la rapidità con cui si svolgono questi eventi, la rapidità di cambiamenti. Ecco qua, questo è l'affaretto. E devo girare di qua. Oh no, ho sbagliato. Questo è là. E' questo? Potete tranquillizzarmi, faccio più presto adesso a spostare le... Allora, la prima considerazione che volevo farvi riguarda il mondo che cambia. E come diceva Luigi Pintoro in quel meraviglioso libro che è Servavo, quello che sgomenta è la rapidità del ciclo. Questo, vedete, di questo vorrei che riteneste, prima che di dettaglio, vorrei che riteneste l'idea di questi andamenti. Questi sono indicatori socio-economici, misurati. Da quando, sostanzialmente, da quando possiamo misurare, abbiamo cominciato a misurare, grosso modo all'inizio del Settecento, la prima serie vera, non interrotta, la serie del pioggio giornalieri che la batte Giovanni Poleni, stabilì nell'osservatorio di Gallileo a Padova. Giovanni Poleni, prima cazzo dell'idraulica al mondo, e Padovana. Ma quello che vorrei che restasse di questi, poi commenteremo rapidamente quali sono questi indicatori, sono tutti caratterizzati da... Dunque, i modi con cui noi possiamo caratterizzare queste grandezze, o da quando misuriamo, all'inizio del Settecento, grosso modo, con dei buchi nelle serie, eccetera, o da quando, prima che l'errore connesso con la simulazione numerica, invertendo la freccia del tempo, nasconda il segnale. Cioè, grosso modo, diciamo, dall'inizio del Settecento. Allora, quello che vi vedete è che tutti questi indicatori hanno uno stesso andamento, cioè un quieto olocene che dall'inizio del Settecento arriva fino agli anni Cinquanta del Novecento. E da quel momento comincia a crescere. E comincia a crescere senza controllo. Stiamo parlando, in questo caso, vedete, di... In questo caso, le grandezze che stiamo caratterizzando. Vedete la popolazione globale, la popolazione urbana, il tema della migrazione intorno ai grandi centri urbani, è un tema di grande rilevanza economica e sociale. Parliamo di investimenti diretti, parliamo del consumo di acqua, passiamo dal consumo di energia, quello che volete. Tutti la stessa cosa. All'inizio degli anni Cinquanta e Novecento cominciano a crescere senza confini. Tranne alcuni casi, forse l'unico, e questo è l'entità di quel buco dell'ozono, che fu uno dei pochi casi in cui si trova, per le ragioni più diverse, che non sono l'oggetto della conversazione di oggi, per effetto di Paul Krutzen e Mario Molina soprattutto, premi Nobel per la chimica per questo, il controllo del buco dell'ozono, per questo controllo del composto chimico che lo generava. In questo caso si è livellato, in tutti gli altri continua a crescere. Questo confuta in modo importante una tesi che è dei mercanti di dubbio, cioè i cicli ci sono sempre stati. Il tema su cui vorrei farvi riflettere è l'accelerazione che viene imposta a questi fenomeni. E quindi molti indicatori sono economici e sociali, molti sono biogeochimici naturalmente. E in questo caso qualunque misura della degradazione della biosfera, ripeto ancora, non è il dettaglio che vorrei che riteneste, quanto il fatto che c'è sempre questo comportamento piatto per 300 anni da quando abbiamo delle misure, improvvisamente cresce e cresce senza confini. Quindi si parla di temperature, si parla naturalmente delle concentrazioni dei gas R, che nella riduzione a 1 è il problema principale che spiega quello che stiamo osservando. Parliamo di concentrazione di qualunque tipo di porcheria, ogni elemento che è di turbativa della biosfera si comporta nello stesso modo. Quindi la tesi, questo fra l'altro, l'introduzione a questi è stata fatta ad un convegno molto importante dal consorcio Thomas Stocker, il consorcio linceo Thomas Stocker, che tenne la Kruzen Lecture a Varsavia, dove io ero presente rappresentando l'Accademia, e mostrò questi e li diede, diciamo, Thomas Stocker è stato il responsabile della parte scientifica del rapporto dell'IPCC su questi temi della scienza, dietro le previsioni che l'Intergovernmental Panel on Climate Change ha portato avanti. Quindi il tema è che il clima quindi sta cambiando, questo è l'assunto delle mie considerazioni, molto rapidamente, e dobbiamo farlo anche noi. Questa immagine è una particolarizzazione di questo, che è particolarmente legata al tema da cui ero partito. Questa è nei rapporti dell'IPCC, l'ultimo rapporto dell'IPCC ha tre anni di vita, ma gli studi regionali si sono susseguiti, diciamo, questo è il paraggio dell'Adriatico settentrionale che riguarda la città di Venezia, da cui abbiamo cominciato a parlare prima. Questo è, da una parte, lo storico, quello che abbiamo osservato nello scorso secolo, e queste sono le previsioni, gli scenari di previsioni, fatti con i sistemi che sono caratteristici dell'IPCC. Sono modelli di insieme, sono testati, sono studiati, sono trattati con una cura particolare. Perché è rilevante questa roba? Questa cosa è rilevante perché vedete che le proiezioni vi dicono che nello scenario più bonario, cioè sostanzialmente uno scenario che io credo del tutto ragionevole, uno scenario che non pratica la mitigazione, cosa che i duri e puri degli essenziati ambientali contestano vivamente. La mitigazione vuol dire risolvere i problemi, vuol dire la riduzione dei gas sera. Io non credo che sia praticabile, perché io non credo che, avendo lavorato nel sud del mondo a lungo, io non credo che il nord del mondo sia credibile con il sud del mondo, quando dice scusa a un miliardo di indiani, forse sarebbe bene che voi non usaste il condizionatore, o a chi consuma risorse in giro per il mondo, dice farebbe meglio se tu non deforestassi, quando noi abbiamo distrutto tutte le nostre risorse e anche le loro. Quindi io credo che l'approccio sensato sia un approccio legato all'adattamento. Cioè questo scenario, lo scenario più probabile che l'IPCC mostra, questo è il paraggio di Venezia, è che continui il trend nei prossimi cent'anni, fino alla fine del secolo, è un trend che va, diciamo, dal grosso modo a due gradi e mezzo fino a tre gradi e mezzo di temperatura, di crescita, di aumento della temperatura dell'atmosfera in ragione della mancata riduzione di gas sera, e questo è l'effetto che abbiamo sul livello medio del mare. Se associamo quei 70 centimetri che sono previsti, ripeto, nello scenario più bonario, ci rendiamo conto che più la subsidenza che è inevitabile per il paraggio di Venezia, vuol dire che la città più bella del mondo, come molti sostengono, come io credo, non ha cent'anni di vita, perché non può reggere cent'anni, fra cent'anni, un metro di medio mare, a dispetto di quello che è stato fatto in questi anni. E in questi anni, fra l'altro, per quelli di voi che hanno seguito le vicende di Venezia, avete visto che abbiamo impiegato 60 anni per fare il MOSE, cioè per difendere Venezia dalle acque alte eccezionali, un'opera che era concettualmente banale, perché non aveva alternative, se il problema di Venezia era quello della protezione delle acque alte eccezionali. Ebbene, questo significa che si aspettiamo, ci sono voluti 60 anni per farlo. Oggi cosa fare di Venezia è un sistema in cui ancora il MOSE funzionerebbe, fra cent'anni, per proteggere dall'acque alte eccezionali, ma dovrebbe essere chiuso 260 volte all'anno, con le regole dell'engaggia ad oggi. Il che vuol dire restiamo senza città, restiamo senza alcun uso marittimo, ma senza città perché la città marcisce, non è come Atlantide che sprofonda, la città marcisce, cade a pezzi, non ci sarà alcun uso marittimo possibile della laguna, e piaccia o non piaccia, ma duemila anni di dominanza della Serenissima sono basati sull'uso marittimo della laguna. Non c'è più città che è diventata una quinta teatrale, è diventata un parco tematico la mia città. Quindi questa è una delle prime caratterizzazioni. E questo, tra l'altro, e perdiamo completamente i servizi anche culturali degli ecosistemi, come la bellezza. La bellezza, la Kunstwollen, tutta la città è impregnata di volontà d'arte. Perfino le sue forme a marea, come vedete in questo caso, in cui coesistono forme dove compare l'attività antropica e dove scompare. Ma c'è di peggio, naturalmente. Questa è una fotografia presa quest'anno in Groenlandia, dove il tasso di fusione dei ghiacci artici, in questo caso, è particolarmente forte. Quello che vorrei che vedeste è la perita di ghiaccio misurata, in questo caso, per la cortesia di Carlo Barbante, che è il direttore del Dipartimento di Scienze Polari del CNR, professore Ca' Foscari, quello che succede, è successo in questi ultimi vent'anni. Questo è storia, questo non è una previsione. Se volete guardare le previsioni, pur essendo anni del nino quest'anno, il Sea Ice, l'Antarctic Sea Ice, questa volta parliamo dell'altro polo, e il ghiaccio marino, si è ridotto di sei deviazioni standard quest'anno, rispetto a 25 anni di misure. Allora, l'idea è che, quello che vorrei comunicarvi è proprio questo, che è la rapidità di questo cambiamento, non può non preoccuparvi. E questa immagine è presa dal, invece è presa dal, dall'attualità, relativa attualità, perché questo è maggio del, anzi il 13 maggio del 2023. Questo è il fiume Idice, in Romagna, dove a Molinella di Brudrio, il ponte della Motta, è crollato, e pochi centinaia di metri più a valle, questa è la rotta che vedete. Cosa ha di speciale questa, per l'idraulico? È che, il fiume ha completamente, rompendo, completamente abbandonato l'alveo. E quindi, verso, verso, con Selice, verso quei posti, in cui avrete sentito, parlare durante il periodo dell'alluvione, è stato completamente abbandonato quell'alveo. Quindi, il tema è che, è necessario che ripensiamo, la difesa idraulica, perché in questo caso, è evidente che l'artificialità progressiva, che abbiamo inserito, in questo territorio, ha generato una condizione, che è completamente insostenibile. E, la, è evidente che i caratteri speciali, che hanno, che hanno questi eventi, c'è una legge fisica, che è inescapabile, che la legge di Clapeyron, che dice che per ogni grado di temperatura, in più dell'aria, quell'atmosfera, potrà tenere con sé, da 6 a 7% in più di vaporacqueo, cioè di acqua. Ora, questo vaporacqueo, è nell'atmosfera, incontra front e fade, dove volete che vada questa acqua. Sono bombe d'acqua, quelle come vengono chiamate, correntemente, sono precipitazioni sempre più intense. Con una differenza importante, c'è un problema di scala, questo influenza molto di più, i fiumi medi, i fiumi piccoli, non i fiumi grandi, per fortuna. Quindi è un tema che non può non essere, e non può essere denegato. E questo è anche un tema che dobbiamo porci, perché in realtà il ripensamento della difesa idraulica, è un tema che non è eludibile oggi. E questo a cui pochi che hanno un ruolo, nelle decisioni, mi hanno chiesto un parere, e ho detto, guardi, abbia pazienza. Il tema generale è, dobbiamo adattarci. Adattarci vuol dire ripensare la difesa idraulica, e per lo meno decidere noi, e non il fiume dove rompere. Perché questo sarà completamente inevitabile. Ho sbagliato di nuovo, chiedo scusa. E questo ci porta all'alluvione del 1951, la grande alluvione del Polesine, perché è abbastanza importante questo, perché c'è una considerazione che volevo fare, che è abbastanza rilevante a mio giudizio. Cioè, lo sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento non può mai essere veramente astratto dai grandi temi di salvaguardia che sono connessi alle acque, naturalmente. E la materia di questa conversazione, quindi, in realtà di cosa parla? Parla delle scienze idrologiche, parla di piene, parla di siccità, parla di una giusta distribuzione dell'acqua, che sono i temi di cui noi ci occupiamo. Ma se avete occasione, vi suggerirei di leggere le aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali, che è emanato un'istituzione non precisamente eversiva, come la Banca d'Italia. Volevo leggere alcuni passaggi di questi. Si occupa di ISG, che è un tema fondamentale, cioè di ambiente, di sostenibilità, di governo, in questo principio. E l'idea generale è che il modello di crescita sostenibile deve basarsi sulla piena integrazione di fattori ambientali, sociali e di governance in senso lato. Questo è centrale in tutte le leggende politiche europee, non può essere eludibile. Volevo leggervi il passaggio specifico. La cosa che era interessante, parlava di un tema così anti-keynesiano, che è il tema del sviluppo di lungo termine, che Keynes non avrebbe mai accettato, diceva che deve essere resiliente rispetto alle perturbazioni. E specificamente citava le carestie, le guerre e le epidemie. Noi pensavamo che tutte e tre ci sarebbero state risparmiate. Nessuna delle tre ci è stata risparmiata, evidentemente per la pandemia, evidentemente per la guerra e per la carestia, perché non dimenticate che le navi bloccate in Ucraina hanno creato carestie vere e proprie nelle main account chains. Quindi questo è un punto abbastanza importante. Volevo leggervi il passaggio specifico, che dice, e questo leggo dal documento della Banca d'Italia, essenziale per gestire le trasformazioni che la società e il sistema economico si troveranno a fronteggiare nel futuro. i cambiamenti climatici, le politiche di decarbonizzazione, il degrado degli ecosistemi, la perita di biodiversità oltre ai rischi della crescita delle disuguaglianze e di una limitata inclusione sociale. Questo non è il WWF, questa è la Banca d'Italia. Quindi credo che sia, a questo punto, credo che ci si possa fidare di questa presentazione. E nulla cambia naturalmente rispetto ai grandi temi di questo. vi mostro alcune fotografie di piene perché fanno parte del ciamo del nostro e fra l'altro c'è una grande tradizione per dei convegni importantissimi. Questa è la rotta di Piave nel 1966, a suo modo altrettanto importante di quella del Polesine. Questa è la fine del 2001 a Vicenza, importante anche per la sincronia di un numero straordinario di corsi d'acqua diversi che sono stati mobilitati da un evento di particolare intensità, con una correlazione spaziale particolarmente importante. o questo che è il problema di attribuzione qui è abbastanza complicato perché su questo i temi sono che nel momento in cui noi guardiamo alla distribuzione delle piene come queste sono aumentate al problema dell'attribuzione al cambio climatico è delicato perché è una statistica che è difficile da fare ma in Pakistan nel 2013 c'è stato un evento si dubita se attribuibile completamente al cambio climatico con un grande sospetto però che ci siano degli effetti importanti in particolare sul monsone che ha generato fenomeni che sono straordinari certamente l'aumento della temperatura dell'atmosfera non può che suggerire disastri in arrivo ancora chiedo scusa questo è un tema che è abbastanza che è solo in parte diciamo correlato con questo però lo diventa per altre ragioni e questo riguarda l'idea che è il dialogo di ambiente naturale di ambiente costruito che è un tema abbastanza importante in particolare nell'Italia settentrionale in particolare nel mio Veneto che ha riflessi importanti legati al cambio climatico perché naturalmente piogge più intensi generano eventi sempre più gravi però il tema su cui volevo farvi riflettere è il tema che dice che il forestiero che fosse passato nel nord-est d'Italia in particolare nel Veneto in modo speciale una generazione fa e tornasse a quest'oggi difficilmente potrebbe riconoscere quelle terre e riconoscere questi luoghi perché un esame laico del contesto territoriale del contesto paesaggistico dei sistemi sediativi del rapporto fra lavorare e risiedere fra terra e acqua non può non osservare la rapidità ancora una volta delle trasformazioni che abbiamo generato in qualche modo che in passato avrebbe richiesto il macinare dei secoli non è più così questo ha un riflesso diretto nella trasformazione di precipitazioni sempre più intense in eventi ad una certa scala sempre più grande allora certamente è vero che non si può separare una discussione da più ampi temi culturali ma in particolare centrati su questo rapporto fra ambiente naturale e ambiente costruito che dovremmo porci con grande attenzione il problema è che possiamo aspettarci che sia la natura a provvedere benessere possiamo aspettarci che sia la natura a provvedere qualità urbana ambientale della vita perché molto spesso un teologo veneziano che ho molto amato Don Germano Pattaro diceva che lo spirito di povertà ce l'hanno solo i signori e quindi l'idea che una gran parte di questo scempio del territorio corrisponda a migliorate condizioni di vita è un tema su cui non si può non riflettere il problema è che bisogna chiedersi se il costo da pagare se ne vale la pena sostanzialmente allora l'idea è che il concetto di paesaggio culturale secondo cui il paesaggio natura è arricchito dalle opere dell'uomo non è offeso dalle opere dell'uomo è un tema centrale rispetto a quello che veniva chiamato da Friedrich Kratzel il Lebensraum cioè lo spazio vitale che è quello che incontra le storie che incontra le strutture invisibili come le chiamava Lucio Gambi cioè le tradizioni dei luoghi gli assetti politici ed economici e sociali le pratiche giuridiche e le espressioni delle sensibilità collettive e le tradizioni dei luoghi quindi questo esame del contesto territoriale è abbastanza importante quello che vedete in questo caso è un'immagine del Veneto presa dall'alta e quello che vedete da destra è un'estrazione che è stata fatta dalla parte urbanizzata di quel Veneto è una fotografia fatta presa da Google Scholar adesso ma l'idea è che si dice ma certamente ne vale la pena questa semiologia del paesaggio idraulico con i segni importanti che comporta è sempre corrisposta ad un livello di benessere economico e sociale largo più utile e ne è sempre valsa la pena allora il tema in alcuni casi è abbastanza facile che posizione prendere nei momenti in cui per esempio dell'abusivismo l'abusivismo magari moderno ma tornerò su questo tema dopo ma è la sensibilità collettiva che maturi il valore che ha un'opera che è parte diciamo che è opera dell'uomo naturalmente che ridiventa rapidamente parte di un contesto ambientale e culturale senza denegare che esempi infelici ce ne sono molti Goethe nel 1768 nel viaggio in Italia diceva che la strada più bella che avesse mai fatto in vita sua è la strada che andava da Vicenza a Padova provate a farla oggi quello che vedrete è questa teoria infinita di un'edilizia residenziale dilapidata di centri commerciali di capannone di questa roba è quella che è la più bella strada del mondo secondo lui allora il paesaggio sfregiato come diceva il poeta Zanzotto quello di dietro il paesaggio è il dolore del poeta è di tutti noi ma un tema che non è facile da decidere perché in realtà che cosa sia legittimo cosa sia legittimo cosa vada demolito o no non è facile da decidere specie in contesti come i nostri stratificati dalla storia allora un esempio caratteristico è la Liguria la città di Genova per esempio che ha una grande tradizione idraulica nella quale i primi tombamenti intorno a quella che è oggi la stazione principe sono seicenteschi seicenteschi se la sono guadagnata è un po' questa parte certamente la sistemazione di Brignole era stata fatta in quel modo tombando il feregiano e quant'altro era fatta per le adunanze di Mussolini le adunanze fasciste che dovevano essere gigantesche e avevano bisogno di spazio ma l'esempio più bello secondo me è più caratteristico del fatto che i contesti stratificati della storia sono difficili da giudicare e questo è il manuale questo è il è il torrente le timbo in santuario che è stato realizzato all'inizio del 600 nel luogo in cui il beato Botta aveva visto la Madonna e qui deve avvenire questo santuario e così accade ed allora hanno cominciato le cosiddette alluvioni della Madonna che sono ricorrenti naturalmente è difficile immaginare che sia considerabile come un abuso la seconda cosa che vi volevo mostrare riguarda la siccità perché piene siccità ripeto questa conversazione e potete stare tranquilli perché al quarantesimo minuto questo scatta e io chiudo perché tendo a chiacchierare a lungo su queste cose perché mi divertono la siccità naturalmente è stata importante è stata importante in particolare ma quello su cui vorrei farvi ripetere ancora una volta questa parola che ha la rapidità del ciclo vi ricordate che ad aprile del 2023 eravamo preoccupati per la grande siccità che caratterizzava i grandi fiumi nel settembre del 2022 è emerso un carro armato dal fondo del buttato durante la ritirata tedesca nella seconda guerra mondiale è venuto fuori perché è testato lì per quanto è stato da allora fino ad oggi non era mai stato così basso il livello del fiume il livello del po e l'idea che sono siano fenomeni legati non è completamente banale da dirimere da un punto di vista tecnico certamente è una assunzione ragionevole quella di immaginare di dire che piena siccità sono entrambi due aspetti della stessa cosa Clapeyron vale vale sempre ci sono degli effetti è un po' più difficile da spiegare certamente non abbiamo l'errore con questioni tecniche ma certamente nella riduzione a 1 il problema centrale è sempre quella della temperatura aumentata la temperatura atmosferica aumentata che continua ad aumentare e che lo farà anche in futuro naturalmente e questa è un'altra osservazione abbastanza importante che va tenuta in conto ed è che questa che vedete il colore è l'anomalia delle precipitazioni nell'anno e mezzo quasi due anni della cosetta siccità che ha colpito che ha colpito l'Italia i colori rossi vanno verso un deficit di precipitazione quella che si chiama la siccità meteorologica cioè acqua che non è caduta dal cielo poi ce ne sono altre naturalmente che sono legate ad altri fattori e blu vuol dire un eccesso rispetto alla media e cosa mostra? mostra che certamente è vero che la pianura padana ha avuto un grande deficit di precipitazione ma non il sud Italia per la prima volta la Sardegna ha riempito veramente la diga cantoniera e ha fatto piani anche di lungo termine fra l'altro la Sardegna ha anche una storia di tarifazione dell'acqua che sono particolarmente interessanti e intelligenti qual è il messaggio? che i percorsi le vagaries of nature non sono precisi non sono predicibili non sono semplici non sono correlate spazialmente e sono eterogenee nello spazio nel tempo le buone fortune non durano in eterno l'ho detto Giorgio anche a Redisves lei è pieno d'acqua ha detto guardi che non durano in eterno come dico agli studenti agli studenti sempre la zona del pianeta la più secca al mondo è un angolo del Sahel in cui non piove una goccia d'acqua da 38 anni da 38 anni non una goccia d'acqua allora se voi prendete un'immagine da satellite vedete che cosa vedete vedete tracce di fiumi meravigliosi che solcavano quelle terre una volta le buone fortune non durano in eterno e naturalmente poi questo impatta enormemente la qualità della vita queste fotografie sono particolarmente che colpiscono la parte della media c'è un'altra ragione su cui volevo far riflettere la dotazione media di un italiano oggi voi consumate 248 litri al giorno per abitante tutti noi noi in Italia fra l'altro una media abbastanza alta anche rispetto all'Europa non dimenticatevi che in giro per il mondo la dotazione è quello che una donna riesce a mettere sulla testa magari camminando per chilometri alla mattina per andare fino a questi porti a prendere e caricarsi perché questo è tradizionalmente in quelle società affidato alle donne questo ruolo quello della produzione della dotazione giornaliera che a farla buona è 30 litri al giorno salvo rifare il percorso dopo quindi sul tema delle disuguaglianze insisteremo ancora una volta e non è vero che gli ingegneri sono necessariamente la soluzione di questo problema questo era un bellissimo un bellissimo cartoon di McLachlan che diceva appunto vedete quando avremo un po' di ingegneri basta arte eccetera in realtà gli ingegneri fanno anche grandi disastri gli ingegneri di Stalin fecero dei disastri incolmabili hanno distrutto il lago d'Aral che era una questa è la testimonianza più clamorosa di una cecità di un'ingegneria degli ingegneri e agronomi di Stalin che o non capivano niente e non credo o non avevano il coraggio di dire al padrone per non finire in Siberia cosa dovevano fare il risultato è un disastro di proporzioni colossali interamente dovuto all'uomo perché Stalin voleva l'autarchia nella produzione di cotone assolutamente non erano assolutamente evocati quei terreni per cui non avevano abbastanza acqua è stato un tema in cui le disgrazie dell'uomo sono state particolarmente importanti ma non lo sono sempre spesso le opere dell'uomo possono rapidamente acquisire un carattere un carattere di bene ambientale e culturale importante spesso possono avere effetti fra materiale e immateriale molto importante questa è l'uscita della galleria Adige Garda che è stata fatta da dipendenti dello Stato da ingegneri del magistrato alle acque Veneto di Venezia a seconda dei tempi è stato rifatto all'inizio del Novecento il magistrato alle acque è stato ricostituito ed è una galleria che collega l'Adige per questioni di quote è possibile al lago di Garda è entrata in funzione una decina di volte e crea anche dei problemi come se avete apposta ho messo questa foto perché ci sono delle grandi contestazioni su questa torbidità che viene indotta dalle piene d'Adige in quel contesto ricordo che nel Quattrocento la piena del Castagnaro fece almeno diecimila morti non è precisa perché non si sanno certamente notizie di queste fra quelli che sono morti subito e quelli che sono morti di fame cioè l'opera dell'uomo può essere controversa la semiologia del paesaggio idraulico può essere rilevante può essere difficile però vanno confrontati bene vanno fatto bene i calcoli insomma se di calcoli si può parlare in questi casi ho sbagliato traccia di nuovo e questa foto stiamo avvicinandoci abbastanza rapidamente sì sì ho ancora otto minuti alla conclusione di questo questa immagine ci porta nell'Africa subsahariana dove ho lavorato per molti anni e ho fatto lavoro di campo per molti anni questo è in Burkina Faso è nella zona di Lulgu vicino alla frontiera maliana diventata poi impraticabile per tutti i guerrilieri ex di Gheddafi armatissimi che hanno cominciato a scendere per la piena isola destabilizzando non solo in Burkina Faso ma in metà dell'Africa su questo e questo è interessante perché questo dice ma e questo porta anche alla ragione per cui hanno premiato il mio lavoro e riguarda questo cioè nel Burkina Faso vennero finanziate dalla banca mondiale che non ha più finanziato grandi dighe al mondo per finanziare 15.000 piccole dighe allora l'idea è che queste 15.000 dighe che sono state create hanno certamente avuto un impatto sul prodotto interno loro del Burkina Faso perché l'agricoltura è uscita potentemente migliorata ma i canali di irrigazione che portano a quest'acqua hanno fatto penetrare malattie debilitanti portate dall'uomo in questo caso la bilarzosi o la scistosomiesi che è una malattia debilitante che è poverty reinforcing è una malattia che produce ritardi cognitivi importanti nella prima stagione che si prende semplicemente mettendo la mano in acqua uno studente che faceva lavoro di Campola prese la scistosomiesi perché gli cadero delle forbici una volta tutte naturalmente il training di PFL come si fa la sicurezza o quant'altro eccetera gli sono cadute le forbici le ha prese le ha tirate su e le è bastato perché in questa fase questa che si chiama cercarie entrano nella pelle direttamente quando è infestato è un istante che queste poi parcheggiano nella parte o in aria o intestinale dell'uomo e creano quei problemi basta una dose di prezi quantel e questa passa però non dà immunità di alcun tipo allora le domande che siamo in grado di rispondere adesso i fiumi in questo sono importanti perché questo è un tema su cui non tornerò più perché sono affeggiando nella fine ma sostanzialmente possiamo chiedere se i grandi piani di gestione delle risorse idriche saranno in grado di prevedere per esempio di ritenere al loro interno la protezione e la riduzione della perita di biodiversità possiamo vedere i percorsi delle malattie portate dall'acqua nella forma di una rete fluviale siamo in grado di prendere delle decisioni rispetto alla gestione di risorse idriche che coinvolgono anche valori che oggi definiamo immateriali perché non siamo in grado di valutare i valori da attribuirsi al capitale naturale quindi ai servizi degli ecosistemi e quindi l'idea di questo price in the planet che voi vedete in questo caso questo è parte da scupta che è una parte importante di questo di questo disegno e che anzi in questo caso è più insieme a Simon Levine l'acconto per il modo in cui viene depreciato il capitale naturale è fondamentale è fondamentale che siamo in grado di dare una valutazione economica l'economia ambientale ha generato un'idea che è fondamentale non la ricchezza o la povertà delle nazioni senso Landess non senso Adam Smith non è determinata da indicatori economici come il prodotto interno lordo ma deve ricomprendere il valore del capitale naturale perché è possibile certamente per noi far marciare un'economia minando il capitale naturale distruggendo biodiversità e perdendo per sempre servizi degli ecosistemi ma solo per un periodo naturalmente e l'idea che volevo parteciparvi è che siamo un po' tutti orfani diciamo di questa di questa visione che è la visione kuznesiana cioè sostanzialmente l'idea è che si pensava si riteneva che in qualche maniera e questo è kuznes un premio nove per l'economia ed è stato un espatriato dalla Germania nazista professore d'Harvard e queste curve segnavano fatte empiricamente sulla base però attenzione del mondo che si rimetteva dalla seconda guerra mondiale ebbene questi dicevano che all'aumentare del prodotto di una qualche misura a reddito pro capite bene inteso naturalmente nel senso degli economisti rispetto a qualunque misura delle disuguaglianze prima cresceva all'inizio e poi calava quindi l'idea ha motivato e gli ambientali cioè la visione del pensiero economico rivolto allo sviluppo che è opposto alla natura ed è opposto a quello ambientale diciamo beh intanto diventiamo tutti più ricchi che le disuguaglianze si ridurranno entra Thomas Piketty in questo libro Il Capitale del XXI secolo che è un libro di una noia spaventosa ma qui le prime 30 pagine sono assolutamente fascinose e non è vero niente su base fattuale al crescere della ricchezza aumentano le disuguaglianze in tutto il mondo la distribuzione della ricchezza è una legge di potenza che ha un esponente che ha una robustezza straordinaria nel Bangladesh come negli Stati Uniti come in Italia come anche perfino in una regione per la quale l'80% della ricchezza è nelle mani del 20% della frazione del 20% della frazione più ricca e quindi questo è un tema abbastanza importante sto arrivando alla fine ho ancora 3 minuti e 20 e questa fotografia l'ho fatta invece in Bangladesh perché un punto importante della valutazione del capitale naturale riguarda le malattie portate dall'acqua che fanno parte di questo disegno allora l'idea è che guardare alle reti fluviali come corridoi ecologici per specie quindi per biodiversità per popolazioni quindi migrazioni biologiche incluse le migrazioni umane che hanno formato quelle nel neolitico che hanno formato la struttura delle comunità guardavo il Baci che è il grande esperto di queste cose come le vediamo quest'oggi che hanno dei riflessi molto importanti e le malattie portate all'acqua che sono una parte ancora importante allora ci chiediamo ma guardando una rete fluviale siamo in grado di capire dove un random seeding cioè l'impianto a caso di una perturbazione a caso si fa per dire perché ad Haiti per esempio che è il paese più povero del mondo il colera che ha devastato nel 2010 il paese per nove anni è stato portato da noi dalle truppe non l'aveva avuto per 200 anni il paese più povero del mondo è devastato da un terremoto portato dalle truppe nepalesi dalle truppe nepalesi di UN soldiers quelli delle Nazioni Unite naturalmente ma questo ragazzino e questo è anche un manifesto all'umiltà che è richiesta allo scienziato questo ragazzino voleva mostrarmi che le sacre acque del Megna che è una è un affluente del grande sistema del Gange Bramaputra uno dei più grandi sistemi del senone più grande del sistema del Taico al mondo voleva convincermi che l'acqua sacra del Megna non può causare il colera allora visto che questo accadeva 300 metri a valle del più grande ospedale al mondo dedicato alle mattie di Arraiche che era la Matlab si chiama proprio così Bangladesh e io c'ero appena stato e sapevo che c'erano almeno 60 diagnosticati casi di colera che cosa la prima considerazione che viene da fare ma quanto fragili sono le nostre capacità di predire una domanda così stupida ma lo prende o no il colera questo ragazzo perché le difficoltà che ci sono per una domanda così semplice lo prende o non lo prende è veramente complicata da farsi perché uno contrae colera se uno ingerisce un numero di fibrioni cioè un numero di batteri che è proporzionale in qualche maniera alla salute della persona ma certamente una certa quantità quindi il problema è immaginare di predire in quell'istante nel tempo e nello spazio quant'è la concentrazione di un sistema alla cui condizione iniziale è mal certa nel quale non si sa quanto sopravvive il batterio in un ambiente libero di questo tipo morale della favola non sappiamo rispondere ad una domanda così semplice e quindi noi abbiamo particolarmente dei dati particolarmente belli particolarmente importanti non vi parlerò delle persone che hanno fatto grande questa scienza Ignacio Rodicacidurve voglio ricordare Benoit Mendelbrot per Bach tutti e tre morti ed erano persone di grande valore le esperienze che si possono fare in laboratorio nell'infinitamente piccolo e in questo caso sono esperienze di laboratorio fatte nel mio laboratorio mi sono orgogliosamente insegnato un'esperienza di laboratorio biologico che è stata una grande una grande esperienza per me all'infinitamente grande con gli stessi sistemi ora i fiumi quindi danno la previsione di questa dispersione direzionale che ho finito ho finito no no sono 40 minuti esatti ho parlato anche troppo ma dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande con degli schemi che hanno a che fare con modelli ecologici importanti il modello neutrale la biodiversità in particolare riusciamo a prevedere quello che fanno il Mississippi da un sistema che è stato misurato in sistemi di questa dimensione vale per le invasioni biologiche come in questo caso si riusciamo a far correre che ricordano non solo l'invasione della zebra mussel che sono dei grandi competitori nel sistema del Mississippi misuri ma l'invasione dell'uomo la cosa neolitica che avete visto e questo è l'ultima slide che ho da mostrarvi ed era questa questa è abbastanza rivelatrice secondo me del fatto che non riusciremo a convincere il sud del mondo che la necessità di mettersi tutti insieme intorno alla mitigazione dei problemi di tutto quello che abbiamo usato adesso intorno a piene intorno a siccità intorno a una giusta distribuzione dell'acqua questa signora questo è accaduto ad Haiti nel 2010 mi sono precipitato appena perché studio ho studiato le malattie portate all'acqua mi sono precipitato ad Haiti subito dopo il terremoto e dopo l'inizio di questa epidemia che è durata nove anni che ha fatto 800.000 morti con un'incidenza iniziale spaventosa in cui è ragionevole immaginare che la popolazione fosse completamente naive perché da 200 anni non l'avevano beh è un paese in cui non c'è non ci sono strade non c'è distribuzione dell'acqua non c'è non c'è non c'è niente non c'è polizia ti possono ammazzare per rubarti la macchina fotografica e io ho visto questa signora che vedete col vestito rosso avvicinarsi a quella signora che vende cavi là dietro mostrare una app con il Nokia N900 e avere un cavo nel ritorno allora il pensiero è ma che società siamo se non portiamo una distribuzione di acqua sicura di acqua potabile ma portiamo l'infrastruttura che serve ad una proliferazione per la quale nel sud del mondo la proprietà di un telefono cellulare non è socially biased ce l'hanno tutti su questa base io credo che non siamo credibili rispetto al sud del mondo e concludo dicendo che grandi o piccole che siano le nostre scoperte naturalmente queste ci parlano di un viaggio in cui ci siamo imbarcati senza sapere come sarebbe andato a finire è stato un viaggio meraviglioso accompagnato da istituzioni da accademi e da quant'altro ma certamente quando mi hanno annunciato il premio e mi hanno detto senza vergogna alcuna dice beh guardi questo le metti in mano un megafono che il mondo intero ascolta che messaggio vuole lasciare a valore di questo insomma e che è il tema anche che chiude questa conversazione io credo che i tempi e la ricerca siano maturi per ripensare la giustizia distributiva in maniera nella gestione delle risorse idriche che non è le risorse di tutto ma è certamente una parte odenianamente una parte importante di questo come un potente strumento per la riduzione delle disuguaglianze su scala globale vi ringrazio grazie 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 grazie